Ben trovati al meteo, dopo una breve tregua dal maltempo, mercoledì 3 novembre una nuova perturbazione si affaccia sull'Italia portando diffusa instabilità sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nebbie sparse fino all'alba, poi in dissolvimento al mattino. Piogge via via in aumento nel corso della giornata, a partire dai monti e a seguire un po' dappertutto. Nel pomeriggio rovesci anche intensi con accumuli crescenti andando dalla costa alle zone pedemontane e montane. Temperature in lieve calo minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tempo variabile con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente potranno essere anche forti. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove non cambia lo scenario, piogge dappertutto sin dal mattino. Attenzione a fenomeni anche di una certa intensità. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie.